Musica Pensavo fosse una semplice foto, ma si è rivelata un'arma contro me stesso. Le mie foto viaggiano per il web. Sono in ansia, ho le gambe tremolanti e lo sguardo spaisato. Dopo che tutti hanno visto le mie foto, non riesco più ad entrare a scuola. Ho paura dei loro sguardi. Quando la mia foto ha fatto il giro, tutto intorno a me è diventato buio. Forse la persona con cui ci attiamo non è quella che pensiamo. Questo è quello che succede a fidarsi troppo sul web. Musica